Vai, guarda. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere che cos'è questo. Andiamo a vedere che cos'è questo. Ma è bellissima. Wow. Che meraviglia. Wow. Bellissimo. Ancora pronto. Adesso stanno a costruire. Wow. Bello. E ora ho schemi. Wow. Wow. Bellezza. Mamma. Stupendo. Sì. Ho visto un ragno. Wow. Un bello gran. Quello secondo me è piuttosto una zanzara. Andiamo a vedere qui. Guarda che torta. 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 Oh che cos'è? La casa dei Puffi? Sarà la casa dei Puffi? O di Biancaneve e i sette nani? Wow. Wow. Che bello. Bellissimo. Guarda che torta. paio? Guarda che torta.. Allora, qui c'è il chiume. Qua c'è Ami. Posso mangiare? E qua c'è la Vale delle? Allora? Allora c'è.. è la Vale delle Forte. E tutte casine particolari! ciao ciao vai Pietro mi si è spaventata di queste bellissime due farfaline che volano insieme guarda che bello guarda